Ciao ragazzi, PeppeNappa08 con voi e oggi vi farò vedere tutta la mia collezione di carte Pokémon. In questo video vi farò vedere le Reverse, fino alle GX, Vimax, Hyper, poi ci saranno delle Shiny, le Promozionali, le Olo, tutte queste, tranne le normali. Dico anche che purtroppo le Reverse dei allenatori non le trovo, però erano solo allenatori non quelli full art. E comunque iniziamo. Per chi non lo sapesse, io ce l'ho un raccoglitore, solo che tutte queste carte non entravano dentro, quindi mi sa che prenderò uno per le Cartelare, uno per le Reverse, o lo Shiny, Promozionali e varie. Quindi iniziamo. Iniziamo col mazzetto dell'energia della foglia. L'energia di queste biglantinate ti do solo per l'energia della foglia, questa qui è dell'acqua, quindi iniziamo. Energia, Bellsprout, Yama, Celebi, Kakuna, Cacni, Tropius, Pan Sage, Karablast, Daisy Dewi, Spino Rack, Durant, Grookey, Twachy, Twachy è più forte, Winput, la mia prima Reverse. Reverse, Daisy Dewi, Olo, C'è l'ho anche io, Rilla Boom, Olo, Rilla Boom, Olo, Promozionale. Poi abbiamo Hell the Ghost, Promozionale. E poi abbiamo le Cartelare, Bobasaur, Morellal e Ludicolo. Andiamo al prossimo mazzo che sarà quello del... Dell'acqua, quindi abbiamo l'energia dell'acqua. Squirtle, poi c'è una delle mie carte preferite. Wartortle, Toxapex, Cremorant, Cloyster, Periper, Volcanion, Articuno, Bertwick, Frosmoth, Chuitel, Kodak, Lepress. Un attimo. Drizzle. Di Avido, Svecchissima, che credo che c'è una promozionale, c'è in America, è promozionale. Qui non lo so. Abbiamo Marchi, Piavolo, un po' che ho mai finito. Green Ninja. È una delle carte migliori che hanno fatto di Green Ninja, secondo me. Quello, così è pure più figo. Proviamo, Chiura in Bianco, Olo. Intilio, Nolo, promozionale. Nineteenth di Alola, promozionale vecchissimo. Psyduck, Magikarp e Green Ninja. Ora passiamo al prossimo mazzo. Questo video sarà un po' lungo. Se vedete qui c'è una pochia carte, perché le altre carte più rare sono tutte insieme alle GX, le Full Art, e così via. Charmander del McDonald's, Sindacus del McDonald's, Litvik, Victini, Salazel, Senti, Scorch, Olo, Sindarin, solo promozionale, Charmander del film e Charizard del film. Vorremmo il mazzo dell'energia lotta. Abbiamo Matchup. Chibonbon, 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 Monkey, Ghibo, Hippopores, Hippodown, Glisco, Pancham, Silicobra, Terracion, Garchomp e Machamp del film. Abbiamo il mazzo di energie dell'elettricità. Moltiko, Oricorio, Dynamo, Raycoe, Electriver, Chinchou, Ampharos, Geodude, Electrode e Detective Pikachu. Avete visto che maggio che ho fatto? O andiamo al mazzo Psyco. Abbiamo... Ok. Nidorino. Koffing. Trevenant. Natu. Zubat. Cosmog. Mushrana. Che è Mushrana? Musharna, scusate. Mismajus, Daskal, Chandelouin, Olo, molto bella. E Mistmae, del film. Se vi chiedete perché ho le unghie così lunghe, è perché non trovo quel fottutissimo tagliaunghie. È da tre giorni che non lo trovo. Oggi lo compro. Sennò sembra che sono una femmina. Bottele un po' con la... Forbice. Per ora faccio una magia. Vedete? Mazzo. Di Eevee. Abbiamo Eevee. Fearow. Minicino. Skitty. Teddy Ursa. Non è a voi ragazzi, è la mosca. Teddy Ursa. Miltank. Stoutland. Rufflet. Pikipek. Taurus. Ipum. Staffal. Indidi. Indidi Olo. E Lickitung. E Slaking Delphi. Dei film. Chissà se riesco a fare un'altra magia. Eccola. Abbiamo Arbok. Zizzagoon. Burloin. Pangoro. Tibui. Scrafty. E Wheezing di Gala. Iniziamo con un Melmetal. In Poleon Olografico. Con Poleon Olografico e Metagross vecchissimo. Molto bello comunque. Ma dove è andato? Ritorna indietro. Wow, è ritornato. Abbiamo il mazzo dell'energia Folletto. Metti. Abbiamo Cotton. Scusate se non si vede. Wim Scott. E Jigglypuff e Snubbull del film. E per finire due carte di Dratini. E Frax. E ora ragazzi andiamo con le carte GX. E volevi vedere le carte GX prima. E vi devo far vedere queste. Iniziamo. Abbiamo qui. Ploft al McDonald. E Tappo Coco Prisma. L'unico Prisma che ho. Abbiamo due Amating. Rishiram. E Kyog. E Kyog. Abbiamo tutte e quattro le carte di Fessa di Matti. Cioè Mr. Rhyme di Galar. The Den. Poltergeist. E Bunnelby. E per finire le bellezze delle carte normali. Abbiamo tutte le shiny che ho. Ovvero Drizzle. Cramorant. Rotom. The Den. Dragapult. Whising di Galar. Stank Fisk. Kavis Queer. E finalmente posso farvi vedere le carte misteriose da più forti. Scusate se è quello che sto facendo ma sto vedendo quali per arrivare alle carte GX e iniziamo. Abbiamo Kangaskhan GX. Giraci GX. Peccato che non si veda molto. Vediamo senza bustina. Non si vede senza bustina. Proviamo. No. Vabbè. Stavo dicendo Magcargo. Bra Cephalon GX. Charizard GX del film. Misu GX del film. Green Ninja GX del film. Cobalion GX. Gengar MiniQ GX. Sogare di una GX trovata nel pacchetto di Sogare di una GX. Diaclissi Cosmica. E Garchomp e Giratina GX Alleati. Hyper. Ora andiamo con le V. Ush. Abbiamo Pikachu. Rillaboom. Regirock. Draco Zolt. Zazian. Empoleon. Delmiss. Toxfusity. Hatrin. Blastoise V che è la mia prima V. Mi ha avuta Snorlax. E Toghe che si trovato ieri. Andiamo con le V Full Art. Dundro V. Toxfusity V. Grysner V. Fallenx V. Cramorant V. E poi ragazzi. Charizard V. Shiny. Di Futuri Campioni. E ragazzi. Mi ho dimenticato che ieri di questa Sinderance. Si può trasformare. Guardate. Infatti si può trasformare in Sinderance V Max. Abbiamo anche Marpeco V Max. Ivi V Max. Ditto V Max. Una delle mie preferite. Crobat V Max. E. Centi Scorch V Max. Hyper. E per finire. Abbiamo. Anemon. Rose. Ballino. Mustard. Tattica di blu. È una gold. Piatto di metallo. Niente ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. A me è piaciuto molto farlo. Se volete altri video così. Ditemelo nei commenti. Di altre carte. E niente. Noi ci vediamo un po' sui video. Ciao ragazzi. 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 Grazie a tutti.